...del comitato organizzativo, lo farò a inizio manifestazione, poi insomma non mancherà di rinnovare il saluto cosciente e consapevole anche a fine di questo triduo, di questa bella giornata dedicata alla musica. Sto parlando di Nuccio Cantarella che è responsabile scenografo, ha fatto un buon lavoro Nuccio, devo dire, si sta proprio, devo dire, adoperando al meglio. Davide Marino che è scenografo e insomma impegnato alle relazioni sociali, Massimo Mazio, Massimo sei pronto? Sì c'è, sì, eccola là, è sempre pronto per la programmazione computer, grafica e scenografia. Elio Giunta per l'aiuto organizzazione Falco, naturalmente anche Angelo Marchese per l'aiuto organizzazione Falco e Nuccio Scatà per la disponibilità organizzativa. Nuccio è quello che fa un po' tutto, devo dire, un po' la trottola del Sanaredo d'Oro, tutta quanta l'orchestra l'abbiamo già sentita, poi insomma in questo senso gli orchestranti sono stati molto abili a provvedere.